Macerata era una sede che non avevo mai preso in considerazione, ma dal momento in cui vi ho messo piede la mia vita è cambiata dal punto di vista professionale. In meglio, inizia così il saluto del questore Antonio Pignataro che prosegue. La mia destinazione originaria doveva essere un'altra città, ma l'emergenza nazionale mi ha proiettato a Macerata. A distanza di circa due anni dal mio insediamento in questa città, il capo della polizia Gabrielli per merito mi ha prospettato la possibilità di andare a dirigere la questura di un'altra città, a me gradita, ma ho preferito rimanere a Macerata al fine di continuare la mia opera. Ho dedicato tutte le mie forze al perseguimento del benessere sociale e alla riaffermazione della legalità in una città profondamente ferita da gravissimi fatti di sangue e dallo spaccio di droga. La mia finalità era quella di far ritrovare alla comunità maceratese il senso di unità e di rispetto reciproco, un compito arduo che spesso mi ha esposto a rischi ma che ho sempre portato avanti con disciplina e onore, trascurando a volte i miei interessi personali e familiari e senza preoccuparmi della carriera. Quello che desideravo era cercare un rapporto di fiducia con i cittadini, infondendo in loro la certezza che le istituzioni lavorano ogni giorno per tutelare i loro interessi. È inevitabile per chi come me ha preferito agire in prima persona a tirarsi qualche critica. Le critiche vanno accettate poiché servono a renderci sempre migliori, ma devo riconoscere che molti di più sono stati gli attestati di stima e riconoscenza da parte della gente comune, oltre che dalle forze politiche senza distinzioni di colore. Desidero che sappiate che è con grande rammarico e profonda tristezza che lascio macerata, ma l'avvicendamento è imposto da una normale rotazione che serve a stimolare sempre di più l'impegno da parte delle forze di polizia. Ho sentito una città stringersi intorno a me, conclude Pignataro, ripagando l'impegno che le ho dedicato. È questo il dono più grande che porterò con me.